Per fare il primo parti da 80 di velocità, che sarà più o meno così, e fai questo, per un minuto. Poi per un altro minuto fai 90 e un altro minuto 100. L'importante è che tu lo fai bene, nel senso, la posizione giusta, i colpi devono essere tutti uguali e soprattutto tutti bene a tempo. Ma, precisi. Per significare al centro, nello stesso punto, se ti va, si batte le bacchette. L'esercizio è questo fondamentalmente, far bene questa cosa. Se ti viene bene puoi iniziare a velocizzare anche di più. Finché non ti viene bene, farlo a quella velocità, magari da 80 a 90 o anche a 100. Però l'importante è farlo bene. Nota che l'hai fatto bene puoi aumentare. Grazie. Grazie.